Vedo quest'articolo e vi faccio capire come sono autoreferenziati. A loro gli importa solo del loro mondo, a Ghedini. Siccome era un politico conosciuto tutti i cordogli, da Berlusconi, poi ogni giorno muore tantissima gente che magari lavora otto ore al giorno su un'impalcatura, non gliene frega niente. Questo ha difeso Berlusconi, ha difeso Berlusconi, anche Letta, il cordoglio. E degli italiani? No, perché sono del Parlamento. Questo addirittura aveva difeso Marco Furlana, che fu responsabile di una serie di omicidi. Ludbing, cioè era il peggio del peggio. Difendeva tutti i criminali, ok, che ci vuole difensore per tutti. Però non era certo uno stinco di santo. Ha fatto i miliardi difendendo Berlusconi, dai suoi processi, da Rubi. E però tutti lo piangono. Poi muore un cittadino qualunque, siccome non fa parte del mondo politico, non si stracciano le vesti, i vari Brunetta, Meloni, Letta, Casellati, eh? Che schifo. Che schifo. Che schifo. Grazie a tutti.